Ritengo il fatto che vi sia un documento molto 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 buono dal punto di vista del metodo. In soldoni si dice che cosa deve fare l'Europa dei prossimi cinque anni prima di dire chi la guida. Molto 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 buono dal punto di vista della sostanza. Perché per la prima volta la centralità e il focus è sulla crescita. Noi riteniamo che non si debbano violare le regole del patto di stabilità ma viola il principio e lo spirito del trattato e dell'accordo tra di noi chi parla soltanto di stabilità quando il patto è un patto di stabilità e di crescita. Quindi insistere sulla crescita è una svolta per l'Europa. Naturalmente è una svolta che dovrà essere concretizzata perché altrimenti è una svolta soltanto verbale o di documenti. È molto 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 buono dal punto di vista della terminologia. Su cui peraltro avete avuto modo di vedere le versioni che cambiavano e che sostanzialmente io riassumo. Ancora aggiungo fortunatamente poco propenso ad apprezzare la particolarità del cavillo. La dico in questo modo che mi sembra il modo più efficace. Se un paese fa le riforme strutturali sul serio ha diritto alla flessibilità più ampia. Per chi di voi vorrà ricostruire tutti i vari passaggi vorrei ringraziare gli scelpa che stanotte hanno lavorato sul testo perché ieri sera Ipro non si era trovato d'accordo sull'espressione. Per chi vorrà ricostruire tutti i vari passaggi potrà verificarlo. In sintesi chi fa le riforme strutturali ha diritto ad avere la flessibilità. Grazie. Grazie.